buongiorno cuori questa mattina vorrei mostrarvi le murine che ho fatto creare appositamente per me da un artigiano veneziano tutte provviste di certificato di garanzia e che ho montato queste da 32 centimetri le ho montate ad orecchini sono bombate e il retro è uguale al davanti questo è su un azzurro non so se si vede trasparente bellissime abbinata la collana che ho creato io con questo pendente altrettanto bello poi ho creato anche questi orecchini fantasia con tutti questi bellissimi fiorellini eccolo qua questo il suo compagno e questo un eventuale pendente che si può usare con una caterina oppure posso creare un una collana come il precedente eventualmente su richiesta questi invece sono sul verde sempre con i fiori bellissimi poi abbiamo dei pendenti questi sono da 36 questo questo a cui ho già abbinato una catenina è bombato il davanti e anche il retro sono stupendi e poi questi invece sono da 36 ma con una rifinitura diversa il davanti è bombato e il retro invece piatto però sempre la stessa murina sempre la stessa lavorazione io ho abbinato una collana ma una catenina però a richiesta posso fare anche una collana con perle o cristalli anche questo guardate la trasparenza spero si possa si possa vedere sui toni del blu verde arancione giallo e per finire questo questo sui toni dell'arancione azzurro giallo bene ecco queste sono le murine pezzi unici buona giornata a tutti ciao ciao